Alla fine hanno deciso di accettare il risarcimento. I familiari di Luca Attanasio, l'ambasciatore ucciso in gongo il 22 febbraio del 2021, hanno trovato un accordo per il risarcimento con il programma alimentare mondiale dell'ONU e quindi escono dal processo in corso a Roma. Il legale della famiglia Attanasio, durante l'apertura dell'udienza preliminare, ha dichiarato che l'incasso ottenuto dall'accordo sarà interamente devoluto alle tre figlie del diplomatico assassinato. La famiglia del carabiniere Vittorio Iacovaccia è invece rifiutata il risarcimento e continuerà ad essere parte civile in tribunale. Il processo vede imputati Rocco Leone e Luguru Ruga Gaza, funzionali del programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, accusati di omicidio colposo per non aver garantito la sicurezza del diplomatico e del carabiniere durante una missione per la stabilizzazione del paese. Furono loro, infatti, che organizzarono la missione nel nord del paese africano, durante la quale i due italiani furono uccisi in un agguato. Questa mattina, fuori la cittadella giudiziaria di Roma, in concomitanza con l'udienza, c'è stato un sit-in organizzato da varie associazioni che chiedono giustizia e verità su questo caso e piena solidarietà alle famiglie. Il processo è stato aggiornato al prossimo 14 settembre.